15 milioni di euro per la messa in sicurezza, il monitoraggio e le nuove opere infrastrutturali della provincia di Teramo, che dopo aver già speso oltre 3 milioni di fondi sisma intervenendo su 9 ponti, adesso è destinataria di questi nuovi fondi da parte del Ministero delle Infrastrutture a valere sulla programmazione 2021-2023. La provincia di Teramo conta oltre 100 infrastrutture complesse fra ponti e viadotti, molti di questi nell'area pedemontana, sono ponti ad arco ed in muratura del secolo scorso. Con questi 15 milioni di euro, sottolinea il presidente della provincia di Bonaventura, potremo dare risposte importanti come nel caso della frana di Cellino sulla provinciale 23, dove il dissesto è talmente grave che bisognerà costruire un ponte per raccordare la strada. La programmazione di questa tranche di nuovi fondi dovrà essere approvata entro il 30 di settembre sulla base della documentazione tecnica che stanno predisponendo gli uffici di settore. I ponti sui quali sono già stati realizzati o sono in corso i lavori da 3 milioni di euro, oppure sono monitorati con i droni che trasmettono elaborazioni e dati, sono quelli di Tossicia, di località Magone ad Isola del Gran Sasso, di Aprati, di Sesano Valle Castellana, il ponte del Castellano, quello di Intermesoli, Villa Passo, Arsita, il ponte sul Fino lungo la provinciale 34 e quello di Campli. Nelle prossime settimane, annuncia la provincia, è previsto l'avvio dell'intervento da 400 mila euro sul ponte di Castelli, già finanziato con fondi dell'ANAS.